Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, grazie ai miei amici! Allora, oggi Barbie Miniland che sono in pratica un rossetto con dentro delle Barbie Ma saranno della misura di quella casa che abbiamo preso? Non penso, tecnicamente dovrebbero essere un po' più grandi Dietro non c'è nulla, ci sono solo le istruzioni è solo una delle... perché ce ne saranno altre Sì sì, nel short abbiamo fatto una preview di quello che sarà E c'erano anche quelle non a sorpresa perché ovviamente questa non la puoi scegliere Perché a sorpresa... Qui fa vedere quello che andremo a fare Dovrai staccare il tappo, girare e verrà fuori la Barbie Che poi se fai così, guarda, esce anche il rossetto da solo Ah, ok Comunque stavo... Tiralo in basso, metti qua, lascia qua che lo vediamo E' un Ken C'era, eh esatto, c'erano anche i Ken Che bello Ma sono fatti... ma è articolato E' articolato Cioè non è... è articolato solo che si può sedere però è già articolato un pochino Bello Chiudiamo il rossetto Mettilo sulla mano che vediamo se... Ah, mi ero dimenticata cosa stavo dicendo prima Che c'erano anche i veicoli Tipo l'aereo, la Barbie con l'aereo La Barbie con l'auto Ehm... c'era la Barbie classica Quella bionda, no? Ehm... con l'auto viola Se non sbaglio E invece quella mora Con l'auto... foccia se non sbaglio E poi c'era il camper di Barbie Che era il più bello secondo me Ma non c'era perché era finito tutto Tutto Sì, erano usciti da pochissimi Ed erano già praticamente esauriti Andiamo a reinser... Si, non è che fai fino in fondo Comunque Immagino che tu sarai contentissimo Di aver trovato Ken e non una Barbie Sì, perché magari nelle altre trovo le Barbie Almeno ho anche un Ken Ah, perfetto Ok E' bello, cioè sono contenta Io ho trovato un Ken Bene, e quindi io vi ricordo di scrivervi nel canale E' fatto anche bene, devo dire E' fatto molto bene, devo dire Per essere così piccolo è fatto bene Di iscrivervi al canale Mettere un like, condividere, commentare Schiacciare la campanella Per essere aggiornati su tutti i video E come sempre Noi vi saldiamo e ci vediamo al prossimo video Ciao